La nostra università offre un percorso completo a chi fosse interessato. Infatti abbiamo un primo triennio, quindi la laurea triennale in Ingegneria Informatica e Biomedica, in cui vengono forniti nel primo anno le basi di matematica e di fisica necessarie ad ogni ingegnere, e questo primo anno è comune a tutti i corsi di laurea di ingegneria, e le basi di lingua inglese, perché al giorno d'oggi la lingua ufficiale nel mondo scientifico è l'inglese, come tutti sappiamo. I successivi due anni della laurea triennale sono invece dedicati a materie più specifiche dell'ingegneria biomedica, con particolare attenzione alla bioingegneria industriale, che è più legata agli aspetti meccanici, quindi biomacchine, biomeccanica e così via, e corsi che riguardano più da vicino la cosiddetta bioingegneria elettronica o dell'informazione, quindi elaborazioni, analisi di segnali, bioimmagini, sistemi di controllo, tecnologie di sistemi di controllo e così via. Alla fine del triennio lo studente laureato in ingegneria informatica e biomedica avrà una formazione sufficientemente ampia da poter essere impiegato in aziende del settore biomedicale. A seguire abbiamo, per chi è interessato e devo dire che la maggior parte degli nostri laureati triennali seguono questa strada, abbiamo la laurea magistrale in ingegneria biomedica, che è articolata in un ulteriore biennio, in cui ovviamente si vanno ad approfondire materie più specifiche e soprattutto alcune di queste più vicine, diciamo così, alla frontiera dell'attuale ricerca nell'ingegneria biomedica, come per esempio la bioinformatica, la biologia dei sistemi, i sistemi di controllo fisiologici e così via. A valle della laurea magistrale in ingegneria biomedica, infine c'è il dottorato di ricerca in ingegneria informatica e biomedica, che è il proseguimento naturale per chi voglia dedicarsi attivamente alla ricerca in ambito bioingegneristico. Il corso di laurea in ingegneria informatica e biomedica e quindi i suoi studenti, nel momento in cui svolgeranno l'attività di tesi, sia triennale che magistrale, avranno a disposizione l'accesso ad alcuni laboratori di avanguardia che afferiscono appunto al nostro corso di laurea, che sono il laboratorio di biomeccatronica, il laboratorio di bioinformatica e il laboratorio di nanotecnologie. È fondamentale, a mio avviso, che l'università di Catanzaro sia dotata di questi laboratori di avanguardia. Qui voglio fare una breve digressione perché si sente spesso dire in giro che in Calabria ci sono tre università che sono troppe per il territorio calabrese. Non c'è nulla di più falso, anzi secondo me sono poche. Le università, a mio avviso, sono l'unica, una delle poche possibilità concrete che ha un popolo, una regione, per progredire. E questo è dimostrato in maniera inconfutabile. Dovunque c'è cultura, dovunque c'è università, ovviamente fenomeni negativi, come può essere la malavita, e sappiamo tutti i problemi che affliggono le nostre regioni del sud, vengono attenuati. La cultura è il nemico naturale di questi fenomeni. Quindi io mi spingo a dire meglio avere un'università mediocre che nessuna università perché l'università, per quanto possa essere mediocre, per quanto possa essere scadente, è comunque foriera di progetti come progetto Erasmus che porta i nostri ragazzi all'estero, quindi a sprovincializzarsi, favorisce i scambi tra docenti che hanno vissuto esperienze diverse e studenti che hanno vissuto esperienze diverse e da che mondo è il mondo il confronto e il mix delle conoscenze hanno sempre creato progresso. Se poi l'università, invece che mediocre, è un'università di eccellenza, con laboratori di eccellenza, con strutture di eccellenza e con professori e ricercatori di eccellenza, come è senz'altro il caso dell'Università di Catanzaro, come dimostrano tutte le statistiche che vengono periodicamente pubblicate su vari quotidiani, allora ovviamente il problema non si pone. Le attitudini che deve possedere uno studente per svolgere con buon successo gli studi nella laurea triennale in Ingegneria Informatica e Biomedica e quindi successivamente nella magistrale sono quelle di essere una persona innanzitutto curiosa, con buon spirito di iniziative e di osservazione, è soprattutto una persona che ha voglia di studiare e di impegnarsi. Non esistono nell'ambito ingegneristico i geni, ovviamente ci sono persone che hanno un particolare talento per la fisica, per la matematica, per la meccanica, ma senza uno studio approfondito vi posso garantire, con un'esperienza ormai di 25 anni, che non si va da nessuna parte. La competizione al giorno d'oggi è a livello mondiale, quindi non si può più bleffare, chi è più bravo vince e per essere il più bravo bisogna studiare molto. Gli sbocchi occupazionali per lo studente laureato triennale e a maggior ragione per il laureato magistrale del nostro posto di laurea sono numerosi. Basti pensare che recenti leggi dello Stato hanno imposto a ogni clinica ed ospedale di dotarsi di esperti di ingegneria biomedica per il controllo e la manutenzione delle apparecchiature biomediche. Inoltre il nostro laureato possiede buone conoscenze in ambito informatico e quindi può trovare senz'altro lavoro e occupazione in tutte queste piccole e medie imprese che stanno nascendo come funghi sul territorio nazionale e anche su quello calabrese. Queste non sono semplici chiacchiere, quelle che sto facendo, ma sono suffragate dai dati che vengono dal Consorzio Alma Laurea che è un osservatorio dell'occupazione giovanile a valle della laurea il quale dice, per esempio per i laureati triennali adesso abbiamo a disposizione dei dati abbastanza consistenti questi dati ci dicono che circa il 70% quindi diciamo due studenti su tre si iscrivono alla magistrale questo è un buon segno perché vuol dire che lo studente si è trovato bene altrimenti avrebbe abbandonato l'università quell'un terzo di studenti che non si iscrive alla magistrale nel giro di un anno trova lavoro e questo per circa il 70% quindi che vuol dire che praticamente la percentuale di persone a spasso al termine triennale è veramente molto bassa e stiamo parlando di primo anno ovviamente quindi sicuramente molto più bassa dei dati sulla disoccupazione che purtroppo sono ben noti e affliggono nel nostro paese quindi questo testimonio è sicuramente sulla ottima scelta che lo studente può fare nel momento in cui si iscrive alla laurea in ingegneria informatica e biomedica gli sbocchi professionali del resto sono molteplici e già a livello di laureato triennale possiamo dire che sia molto richiesta la presenza di laureati in ingegneria informatica e biomedica all'interno degli ospedali che si devono ormai dotare per legge di ingegneri per la manutenzione e il controllo delle apparecchiature biomedicali questo ovviamente ha aperto nuove strade a laureati nelle nostre discipline ovviamente i nostri laureati posseggono anche notevoli basi di informatica e quindi possono trovare impiego presso laboratori o centri che sviluppano prodotti informatici oppure possono proseguire come poi fanno in molti con gli studi della laurea magistrale sappiamo che la laurea magistrale era stata disattivata a Catanzaro negli anni scorsi fortunatamente grazie all'impegno del nostro rettore professore Quattrone e al direttore del dipartimento di medicina sperimentale e clinica a cui il corso di laurea afferisce la laurea è stata di nuovo attivata la laurea magistrale in ingegneria biomedica e questo dimostra l'attenzione che le massime cariche istituzionali del nostro Ateneo hanno nei confronti della bioingegneria essendosi esistessi resi conto dell'importanza di questa disciplina anche come ovviamente come supporto alle attività mediche la nostra università che è ancora una piccola università rispetto alla grande università al grande mega Ateneo come può essere Napoli o Roma presenta dei vantaggi perché c'è un rapporto tra studente e docente molto più stretto che altrove come coordinatore del corso di laurea posso testimoniare che quotidianamente ricevo studenti che mi vengono a parlare di problemi di svariato tipo e io cerco in genere di risolvere questi problemi non sempre è possibile ovviamente magari in altre realtà lo studente non lo conosce nemmeno il coordinatore del corso di laurea è per lui una figura un po' eterea un po' misteriosa quasi inavvicinabile qui da noi invece devo dire che ovviamente si crea un rapporto quasi amichevole con gli studenti e questo ovviamente non vale solo per il sottoscritto come coordinatore ma vale anche per i colleghi che devo dire sono tutti professionalmente preparati e molto disponibili al dialogo con gli studenti grazie a tutti